Abbiamo anche lui, pronto, Appaia, è pronto per partire, uno, due tunne, tre tunne, il quattro, chiude, bene, il salto, il salto e lo slano, peccato come ci siano le luci per illuminare questo bellissimo posto qui a Gradisca, andiamo a vedere il tunne subito, Appaia, niente di grave però, stava per cadere, fluido la chiusura, Appaia, il cane, specialmente quando ci sono questi, ahia, peccato, ha fatto l'incontrario, ha eliminato, un applauso anche questo conduttore, prepariamo allora il 93, vediamo se il gol di riprida del 93,